Temperature in calo nei primi giorni della prossima settimana. Il gelo siberiano arriverà anche sull'isola con il termometro che potrebbe scendere anche di 8 gradi. Sabato il primo lieve calo, domenica situazione stabile e poi i gradi scenderanno già dal primo giorno della prossima settimana. Le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo nuvoloso associato a precipitazioni, anche nevose a quote basse. Da martedì infatti la quota neve scenderà sotto i 400 metri di altezza. I venti soffieranno deboli o moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali, alternando il maestrale con la tramontana e il grecale. I mari saranno mossi o molto mossi.